Musica Amici di Antena Sud, ben ritrovati per l'appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Vediamo insieme la situazione prevista per lunedì 18 giugno. L'anticiclone nordafricano si mantiene ben saldo sulle regioni sudorientali dello stivale, garantendo prevalenti condizioni di stabilità e bel tempo. E diamo uno sguardo più da vicino alla situazione della Puglia. In Puglia cielo sereno sul Brindisino, poco nuvoloso sul Barlettano e nubi sparse sul Foggiano, sole e caldo nel resto della regione. Spazio adesso come sempre alle previsioni per Basilicata e Molise. In Basilicata sole e caldo sul Materano, poco nuvoloso il Potentino, in Molise cieli sereni su Campobasso, sole e caldo sull'Iserniese. E infine la situazione di temperature, venti e mari. Caldo in ulteriore aumento con valori massimi diurni diffusamente superiori ai 30-33 gradi, con punte di 35-37 gradi su Foggiano, Tarantino e Materano. Venti deboli variabili a regime di brezza con rinforzi settentrionali a largo. Mari quasi calmi o poco mossi, temporaneamente mossi a largo. Io vi ringrazio per averci seguito per ora è tutto con le nostre previsioni, vi lascio in buona compagnia con i programmi di Altenna Su. Arrivederci. 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 Grazie a tutti.